buona serata la firenze smart e da mauro ciutini in studio sulla 11 tra il bivio a 11 milano napoli e prato est in direzione di pisa vengono segnalati materiali dispersi passiamo in a1 tra monte san savino e valdichiana un veicolo è fermo in direzione di roma sempre in a1 tra firenze nord e firenze scandici anche qui in direzione roma vengono segnalati materiali dispersi sulla firenze pisa livorno tra ginestra fiorentina e lastra signa un veicolo in avaria in direzione di firenze a firenze domani per la partita della fiorentina con inizio alle 15 saranno in vigore consueti divieti di transito e sosta e scatteranno otto ore prima della gara d'eccezione di viale fanti e viale cialdini dove divieti saranno in vigore rispettivamente prima del fischio d'inizio a partire da sei ore per la sosta e tre ore prima il transito è tutto grazie a regione toscana la città metropolitana e comune di firenze